In questo video vediamo i 5 migliori kit per lo sbiancamento in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Numero 5. Al quinto posto troviamo My Smail. Questo bite dentale è progettato per adattarsi a qualsiasi struttura dentale, realizzato in morbido silicone, senza BPA. Garantisce l'applicazione del gel al carbone attivo su tutta la struttura dentale, proteggendo lo smalto e le gengive. La luce LED invece attiva il processo di sbiancamento denti LED in maniera veloce e sicura. Questo kit si caratterizza da un gel al carbone attivo. Usa il kit tutti i giorni per ottenere un risultato ottimale nella comodità di casa tua. Ideato per rimuovere le macchie di caffè, tè, bevande analcoliche, vino e tabacco e per proteggere dalle bevande acide che possono intaccare lo smalto dei denti. È indolore per tutti i tipi di denti, anche quelli più sensibili. Contiene tre ricariche gel per sei applicazioni e una scala colori per i denti professionale, per verificare i progressi in corso. Basta seguire le istruzioni presenti nella confezione, per avere denti bianchi e un sorriso splendente. Il prezzo è di 25 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo Eldreamham. Questo gel sbiancante per denti sicuro e professionale inizierà a funzionare in pochi minuti. Imposta il vassoio in modo che si adatti ai denti in pochi minuti e aggiungi il gel per offrire un sorriso semplice e confortevole. Si consiglia di attenersi ad esso per risultati migliori. Utilizzare la tabella di sbiancamento dei denti inclusa nella confezione per confrontare i colori dei denti in modo da poter registrare e osservare chiaramente i cambiamenti nel colore dei denti. Il prezzo è di 29 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3. Al terzo posto troviamo iWhite. Questo trattamento domiciliare va applicato per soli 20 minuti al giorno al fine di ottenere risultati immediati, ossia fino a 8 tonalità di bianco in più. Il prodotto può essere utilizzato per 5 giorni consecutivi per risultati ancora più stupefacenti, oppure di tanto in tanto a seconda delle esigenze. I bite a taglia unica adatti a tutti sono già preparati con il gel attivo e confezionati in modo igienico. Il kit è composto da 10 bite preriempiti pronti per l'uso. Applicare un bite sull'arcata superiore dei denti e uno su quella inferiore. Il prezzo qua è di 34 euro. Numero 2. Al secondo posto troviamo Renfox. In combinazione con il gel sbiancante, può rapidamente ottenere l'effetto di rimuovere la superficie e i pigmenti profondi dei denti, che rendono i denti bianchi. Può ridurre o addirittura eliminare lo scolorimento causato da caffè, sigarette, vino, tè, farmaci o scolorimento dei denti. Posiziona semplicemente il gel sbiancante sui denti, metti la luce all'ed in bocca e collega la porta USB. I telefoni Android devono attivare la funzione OTG. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 16 minuti. Non provoca sensibilità né dolore. Il gel giallo non influisce sull'uso. Il fitato di sodio, un componente del gel, reagirà sotto l'influenza della temperatura e dell'umidità, passando da incolore a giallo. Il prezzo è di 39 euro. Numero 1. Al primo posto troviamo White Sensation. Con questo kit sbianchi i denti comodamente a casa tua e li schiarisci fino a 9 volte. L'applicazione si effettua 3 volte al giorno, 15 minuti alla volta. I 16 LED sul calco favoriscono e accelerano l'effetto sbiancante del gel. Grazie a 4 adattatori, il calcolo ed è compatibile con ogni smartphone. Questo sbiancante denti nasce in collaborazione con dentisti esperti e un laboratorio tedesco, senza sperimentazione animale. La formula vegana efficace per i denti bianchi è il risultato di anni di esperienze e conoscenze fondate. Inoltre è certificato e raccomandato dagli esperti in Germania. A differenza di alcuni altri preparati, White Sensation non contiene perossido di idrogeno, ed è pertanto uno sbiancante denti naturale. I denti e le gengive non vengono sottoposti ad abrasione e lo smalto dei denti resta protetto. L'applicazione è in dolore, rendendo lo sbiancamento dentile rapido ed efficace anche su denti delicati e sensibili. Il prezzo è di 79 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi tutti i link ad Amazon sotto al video. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.